31 mila no aspetta fammi fare i 15 wav ma che scherzi sono no zio vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua ho usato i soldi zio vieni qua vieni qua no dios 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 devo aspettare che è questa dios oh ma perchè cazzo non rianima ah non me l'ha fatto rianimare pinza su no vabbè non 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 non